La videosorveglianza e il controllo agli ingressi delle città è un supporto imprescindibile per le forze dell'ordine per il contrasto di eventi delinquenziali di ogni tipo nelle nostre città. Il ministero dell'interno sotto la guida del ministro Minniti nel novembre del 2017 ha firmato un decreto legge, la numero 20, che metteva a disposizione dei comuni attraverso un bando fondi per 37 milioni di euro. Sono stati ben 2427 gli enti locali che avevano fatto domanda ma le risposte e le risorse a disposizione non sono state sufficienti a soddisfare tutte le richieste. Pertanto ora sono solo 429 i comuni italiani che hanno ricevuto finanziamenti dal ministero dell'interno per realizzare un impianto di videosorveglianza secondo il decreto firmato nel novembre del 2018 dall'ex ministro Matteo Salvini e sono ben 6 milioni e 178 mila i cittadini che beneficeranno di una risposta concreta e tra questi cittadini ci sono anche quelli fanesi. Oggi sul ponte lungo la statale adriatica sul torrente Arzilla sono state installate le prime quattro telecamere. Sono operazioni per il montaggio di quattro telecamere delle 25 che saranno montate in più a Fano per arrivare all'incirca più di 80 telecamere. Due OCR che prendono diciamo le targhe e verificano comunque che i documenti delle auto siano posti. Quindi oltre queste quattro a Arzilla ne arriveranno altre 18 nella zona Sant'Orso e tre nella zona dell'uscita dell'autostrada, nell'uscita di Fano dell'autostrada. Invece le altre due sono due telecamere ambientali, sono molto importanti perché ci permettono di monitorare la città, la zona e sono anche molto importanti non solo per noi ma anche per le forze dell'ordine. Nonostante però si siano ottenute tutte le accortezze del caso, un senso alternato lungo la statale adriatica ha penalizzato il traffico sia in entrata che in uscita da Fano, creando così code fino a Fosso 6 ore in direzione Pesero e traffico in tilt per tutta Fano fino alle 17 di oggi pomeriggio. Voglio scusarmi, anche se ecco forse non è giusto dirlo in questi termini, se per qualche ora oggi c'è stato un piccolo disagio nel traffico però noi abbiamo dei tempi, un cronoprogramma da rispettare.